Se tu non hai niente non è facile da vivere, tu non hai scappi da giocare. Se non c'è pallone, se il padre di qualcuno ha i soldi, ha comprato un pallone per il suo figlio, se il suo figlio ha portato pallone, giochiamo. Però se il figlio non ha portato pallone, se c'è 20 persone lì senza pallone, cosa fai? Il suo figlio non ha portato, non ha portato, non ha portato, non ha portato, non ha portato. e un uomo, il suo figlio è Don San, è il suo figlio, un uomo, un uomo, un uomo, tre figlio. Il mio padre è un uomo, e il mio padre è un uomo, un uomo, un uomo, un uomo. ricordo di una mia ragazza, non ho scopo, non ho scopo. La mia ragazza, non ho scopo, non ho scopo, ma coi male, non ho scopo. . La mia mamma è una mia mamma, la mia mamma è una mia mamma. La mia mamma è una mia mamma, la mia mamma è una mia mamma. La mia mamma, la mia mamma è una mia mamma, la mia mamma è una mia mamma. e di anni e bansu e inyak a credito semenni nia mani ma nesco fisino niente se ne andine in e di un so supporti e così fisico we've been redonsa as a family e ho team e sono felice di tornare a casa con tutela mia famiglia No, 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 no. No, 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 no. Io non posso prendere il cacao perché il cacao non è ancora pronto. Devi tagliare le plantazioni per fare a posto il cacao, però adesso non è un'incisione del cacao, quindi devi continuare a tagliare l'erba per far crescere bene. Questa è una plantazione piccola, quindi stiamo andando a quello grande e sta crescendo con un po' il cacao vero. Se trovi una cosa così, non c'è niente dentro. Devi tagliare. A parte le plantazioni di cacao, questa è una piccola cosa che ha fatto mio madre. Venivano qua per trovare la cosa da mangiare, la cosa per il pranzo, una cosa come patate. Lo vediamo per fare polente. Anche questo qua, se piove tanto, produce un funghi. Lo usano per preparare il sugo. Se uno mi tira le banane in campo, vuol dire che a casa mia ci sono tante banane buone. Quindi non è quello lì che devi avere paura. Perché tu lo vedi adesso che il mio a casa, il mio paese, quello che ho cresciuto, è un banane buonissimo, non mi importa proprio niente. Stanno crescendo il cacao. Quindi è una cosa giusta perché se non piove, adesso siamo in Hamatan, quindi se non piove ogni giorno e poi ogni sera devi mettere un po' di acqua per far crescere bene. Adesso questi sono piccoli e poi le mettono a terra. E questo è Donza. E questo è un condominio, una piazzolita che abbiamo. Poi è pronto per aiutare, per fare tutto. Quando ero qua, questi uomini che mi trattano bene. Questa che si chiama Nobru, che mi taglia i capelli. E questo che è il predetto della mia madre, che lo cresce un bambino come me, che giocava a calcio. Quindi io ho qualcosa da offrire a lui. Due palloni così perché lo fanno in piccola gala qua, 24. Questa cosa qua non fa bene. Questa cosa qua devi buttare fuori. Questa cosa qua non fa bene. Non c'è nulla, non c'è nulla, non c'è nulla. Non c'è nulla, non c'è nulla, non c'è nulla. Non c'è nulla, non c'è nulla. Iscriviti al nostro canale 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 Seleccioniamo i giocatori e noi stiamo giocando per D.C. United in uno dei tournamenti in 2011. Il tournamento ha avuto un grande potenziale per il giocatore. Abbiamo parlato, 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 parlato. Abbiamo introduttosto a Mr. Oliver. Abbiamo deciso di sponso e aiutare la famiglia. Abbiamo sempre stato spostato per lui, perché sappiamo che ha la potenziale e le qualità e possiamo farlo. Quindi credo in lui. E' proprio qua che mi ha visto il mio pubblicatore e poi mi hanno portato a Palermo quando avevo 15 anni. Quando siamo in Palermo, il ragazzo ha fatto sapere che il suo padre è stato in Italia per quasi 8 anni. Abbiamo bisogno di aiutare questo ragazzo. Abbiamo portato il ragazzo a Verona e abbiamo portato il ragazzo anche da Napoli a Verona. La riunione è stata fantastica. La prima volta che il padre mette il ragazzo, dopo 8 anni. Il ragazzo è stato un ragazzo. Il ragazzo è stato un ragazzo. Il ragazzo è stato un ragazzo. Il ragazzo è stato un ragazzo tra noi, il giro e la famiglia. Oliver è un padre per la famiglia, è un figlio. Come ho detto prima, eravamo tre ragazze e un ragazzo. Ora posso dire che Oliver è parte del ragazzo e siamo tre ragazze e due ragazze. Se tu vedi il campo che stiamo giocando, è un campo per dire, è un campo di merda. Però ci difettiamo qua quando hai bisogno di giocare calcio. Perché se no mi ha mai la stessa a quelli altri, quindi non va bene per quello che abbiamo dato lui, una magia officiale mia. Tutti hanno qualità. Se tu vedi quello che sta facendo loro, vuoi dire che tutti hanno qualità. Cosa fa la differenza tra Gontsa e l'altro, è l'attitudine, l'attitudine per farlo. Tutti hanno un lavoro, però se tu cominci a lavorare, se tu cominci a pensare bene, tieni duro il tuo futuro nei tuoi mani. Con un pizzico di fortuna puoi diventare un giocatore. Il ragazzo ha un grande desiderio di giocare tutto il tempo, anche quando gli altri giocatori sono dormiti, Gontsa è capace in la mattina e dice, «I'm going to run». Go to the streets and to run. Quindi è la determinazione. Il ragazzo è determinato, e ha una visione che lo farà in futuro. Il ragazzo è diventato. Non abbiamo la possibilità per trainare i giocatori, ma si potete vedere che hanno un talento natural. Si la scuola può avere molti siti del fattore, che ha moltiheiniche, Sì, siamo più motivati con la donsa storia. Facciamo più di questo tornammento, cerchiamo di vedere se possiamo impostare un'academia dove possiamo mettere tutti questi bambini insieme e cerchiamo di vedere il meglio che possiamo aiutare nel business. Non solo il business di cercare di ritenere nel business, ma anche di poter aiutare i bambini e di avere un futuro per loro. Puoi diventare come Drogba, come Essien, come Muntari. Quindi abbiamo un sogno diretto perché abbiamo uno che da questo campo ha trovato la fortuna per andare lì a giocare in una grande squadra. Quindi abbiamo questa opportunità, questo ideale, questa fortuna, questo pensiero che quello che hanno fatto loro, anche noi possiamo avere questa opportunità per andare lì a giocare. È molto utile, molto utile, perché adesso è molto utile perché abbiamo questo pallone qua che questo campo lo usano per giocare tutti. Si possono andare meglio perché anche i ragazzini possono avere un pallone. Quello che hanno portato a Bologna, devi dire grazie a Bologna per questa cosa che hanno fatto per la mia città. È una cosa buona per loro per iniziare a giocare calcio. E' un po' più importante. È un po' più importante. Io si tratta della famiglia, famiglia, è un altro campo. Se che finisce un po' meno, vedi, è un po' meno. Ci sono molto felici in Italia. In chiama zale, come ragazzi... C'è la famiglia di giocare! getting anion my parents myself and my other siblings it has really changed it's now being there the head of the family he's helping the project of their new house the sister is school because I wanted to go back to school and two degrees and now I'm a student degree in lesson 3 it has really changed her life Sebbia sono un po' di più, non si prendono più. Sebbia non si prendono più, non si prendono più. Non si prendono più ieri. Non si prendono più ieri. Non si prendono più ieri. È così che è cresciuto Donza. Non è un teatro. Trova la conclusione. Ha raddoppiato il Bologna con Donza. Si chiama Zonto. Un balletto che si chiama Zonto. Tutti i bambini qua lo sanno ballare. Occhio! È basta cradio! No?